Siamo partiti da un gruppo di persone che lavorava intorno a Nichi Vendola e al suo movimento e ci siamo allargati attraverso amicizie, conoscenze, persone che lavoravano insieme siamo una rete che non ha una struttura gerarchica ma lavora come un network. Nikipedia è lo strumento sul sito della fabbrica di Nichi che permetterà a tutti di partecipare al dibattito libero e pubblico sul futuro della Puglia. Abbiamo raccolto tutte le proposte per i prossimi cinque anni da parte degli assessorati della regione Puglia e li vogliamo mettere a giro perché tutti i cittadini possano contribuire a questa discussione indicando che cosa va rispetto a quelle proposte e che cosa ancora non va rispetto ai settori di intervento. Non ci riteniamo gli spin doctor di Nichi Vendola ma un gruppo di attivisti che costruisce una pagina politica. Come potete vedere questa è una macchina riformulata in versione fabbrica, una fabbrica mobile a seconda della pronuncia che ci serve un po' a raggiungere quei territori dove non c'è uno spazio fisico, non c'è una fabbrica di Nichi. Se Maometto non va alla montagna la fabbrica mobile va da Maometto. La senatrice che devo dire risponde sempre al suo telefonino sulla quale noi chiamiamo tranquillamente. Questi giovani che adesso si avvicinano ai candidati durante la campagna elettorale, che cosa ne sarà dopo? Vorrei che questa domanda fosse fatta soprattutto ai miei interlocutori, cioè ai miei coetani, ai giovani come me, come lei e come gli amici presenti perché questo patrimonio non va disperso assolutamente dal primo aprile in poi, sperando che gli stessi ragazzi abbiano voglia e partecipino in maniera fattiva subito dopo le elezioni e che non siano solo uno strumento elettorale. I new media sono diventati molto importanti, sono nati per altri scopi ma sono utilizzati molto nella politica. Purtroppo il destino di questi social network è anche questo. Qui invece sto vedendo che c'è questa possibilità di poter continuare, proseguire, credere sui giovani e poter valorizzare anche le loro idee, i loro scopi perché come tanti giovani che oramai sono sfiduciati e sono allontanati dal mondo politico, io vorrei essere presente. Innanzitutto siamo partiti da una condizione, da un dato di fatto, era il candidato che è stato scelto, era un candidato che per sua natura non aveva la necessità sua personale di dimostrarsi in pubblico. Un grande esperto che sta nella stanza dei bottoni ma non è, tra virgolette, sottoposto ai riflettori, alle luci della ribalta. Noi per Rocco abbiamo previsto uno spin doctoring, quindi è seguito da alcuni di noi che, tra virgolette, preparano insieme a lui tutto quello che va detto. Per noi il comizio non è più un comizio politico vecchio stampo ma è un qualcosa di emozionale, un qualcosa di partecipativo. Noi l'abbiamo soprannominato lo zio Rocco perché quando è presente qui con noi al clip, con noi si confida la pacca sulla spalla, si parla veramente di una conoscenza quasi intima. Un approccio molto comune per noi è il volantino. Noi siamo davanti alle fabbriche, davanti alle scuole, sempre con volantini, con i nostri giornali. Il nostro modo di fare politica, le nostre idee, passo dopo passo, giorno dopo giorno, attecchiscono sempre di più, vengono sempre meglio ricepite dalla gente. Qualche giorno fa io e Michele Rizzi, il candidato presidente alla regione, immagina, fa magari due ore dopo è andato a fare un confronto con Ventola, con Palese e la Polibortone. Un'ora prima stavamo dando volantini insieme all'Ateneo. Il nostro partito è molto giovane, io per esempio ho 26 anni, ci sono anche dei ragazzi che ne hanno 17, 18, 20, 21. Lo stesso Michele, Michele non ha neanche 40 anni. In ogni città dove sono presenti i nostri compagni, i nostri militanti, si organizzano semplicemente delle riunioni organizzative. E in queste riunioni si decide il da farsi e la distribuzione dei compiti in maniera molto semplice. E in questo caso, a tutti i nostri compiti, 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 i nostri comp